Grazie per il nostro gruppo su Facebook. Bene, allora per questo gruppo vi auguro sicuramente di crescere e diventare sempre più numerosi possibili e se possibile un giorno conoscervi tutti sarò ben lieto di farlo, va bene? Qualcuno lo conosci già perché molti sono tuoi colleghi. Ma c'è il Renzo Bellardone che fa parte? No, no, no. Che lui è un amico carico. Grazie allora, buona serata, ciao. Ciao, ciao, ciao.